ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro primo live settimanale nonché particolarmente carico perché oggi bitcoin sta facendo cose adesso dobbiamo andare a vedere cosa ma insomma ci si sta muovendo ci sta facendo un po sudare ecco qualcuno oggi ho chiesto prima di iniziare qual è l'hashtag del giorno che adesso lo vedete lì in in bella vista e qualcuno ha scritto dopo la live ricorda di pagare le tasse molto divertente anche perché adesso siamo in periodo di ribilancio cioè per me almeno di ribilanciamento mensile di portafoglio e quindi c'è da tenere conto delle plus valenze mica plus valenze e menate varie comunque che dire noi come sempre qualsiasi cosa succeda che pompi che dampi che lateralizzi che faccia il time high all time low non ce ne frega assolutamente niente ma ci troviamo qua ogni ogni settimana tre volte alla settimana per discutere appunto delle notizie dei grafici del mercato di cosa fare cosa non fare e cose di questo tipo come affrontare la situazione voi lo sapete che io sono il gufo oggi del giorno perché la mia posizione attualmente è short come vi ho condiviso anche su telegram con lo stop loss che è stato sfiorato prima da questo movimento che è sopra i 20.000 in realtà è anche un pellino sopra i 20.100 l'ho tenuto un po largo per ovviare al possibile falso all time high per l'appunto però me la vedo molto male ma in realtà non è che voglio fare il gufo non è che spero che dampi il mio short è uno short di copertura perché ovviamente sono net long al 100% in quanto holdo soltanto la posizione spot ormai vi vi aggiorno quasi giornalmente su come com'è la mia posizione dovreste saperlo ma questo short non vuole essere ovviamente un'esposizione net short perché non sono pazzo furioso e shortare il top senza nessun tipo di copertura è abbastanza folle in ogni caso non volevo iniziare subito così in quarta parlando di grafici posizioni short e cose del genere perché come al solito un po alla volta ci addentriamo nell'analisi dei grafici vi lascio arrivare vi lascio popolare questa diretta che voglio vedere da record ogni volta che c'è una diretta nuova siete sempre di più la cosa migasa si airdroppano shitcoin ormai è una community questa che cresce giorno dopo giorno assieme al nostro bitcoin e la cosa mi piace veramente tanto nel frattempo vi incentivo ovviamente come sempre a fare domande a partecipare perché le vostre domande danno la direzione o la direzionalità che dir si voglia a questo live quindi mi raccomando siate partecipi e vediamo come finirà vediamo se sarà un all time high in diretta o un falso all time high in diretta sarà divertente nel frattempo vedo che in tanti si stanno iniziando ad abbonare con prime non con prime non lo so ma mi gasate comunque fate arrivare anche carlos matos che ogni volta che arriva tra l'altro pompa bitcoin non so se ci state facendo caso continua a salire proprio perché ritorna bitconnect porta via dell'offerta da bitcoin e quindi pompa altro che grayscale bitconnect is the real grayscale comunque basta cavolate cominciamo subito con le vostre domande per chi non lo sapesse non ero serio fino a poco fa non non prendetemi sul serio che non lo so a volte mi immagino uno nuovo che non mi segue abitualmente dice ma chi è sto pazzo furioso aspetta che chiudo subito no non chiudere subito perché tra poco divento serio faccio anche qualche analisi del grafico e se mi stai guardando su youtube ampli alla descrizione perché trovi tutti i minutaggi degli argomenti così non devi stare ad ascoltare le mie chiacchiere e sganciami anche un like così mi si chiuderebbe a fare le mie chiacchiere e sganciami iniziamo detto questo iniziamo allora buonasera a tutti buonasera buonasera ciao luke ciao luke ciao a tutti all time high speriamo dai chi lo sa non voglio fare il guio dentro magari voglio cioè faccio il gufo perché ho lo short ma in realtà il mio cioè il cuore mi dice no non fare il gufo spera anche tu che fondi anche perché è bello vedere un nuovo massimo insomma è una celebrazione per noi della community vedere rompere un traguardo del genere buonasera ciao ciao a tutti ciao grande ancora complimenti per tutto il lavoro che fai grazie mille sono uscito dalla mia posizione long su btc a 18.700 hai qualche suggerimento come mai sei uscito qual è il motivo hai già non lo so avevi una strategia mi auguro perché purtroppo questo è un periodo in cui insomma tante nuove persone si stanno avvicinando a bitcoin e stanno scoprendo per la prima volta anche che cos'è il trading che come funzionano i mercati e cose di questo tipo e quindi mi capita oggi più che mai di sentirmi chiedere consigli di fatto ma a me spiace perché poi sembro antipatico ma io non voglio dare consigli perché innanzitutto non lo posso fare non posso dar consigli finanziari e tutto quello che pubblico sono sempre mie opinioni finalizzate non a farvela imitare o a darvi segnali ma solo per confronto ed educational perché capendo l'operatività degli altri secondo me si migliora in seconda battuta perché ognuno deve costruirsi una strategia io ho dedicato tantissimo contenuto a questo non a dare degli spunti da copiare banalmente entra qui esci lì che è una cosa che lascia veramente il tempo che trova ma per far sì che ognuno di voi sia autonomo nel costruirsi una strategia che è un bagaglio pazzesco secondo me io ho cercato di dare questo contenuto che non ho trovato altrove online e quindi mi sono mi sono dato questa questa mission questo obiettivo e quindi è fondamentale prima di aprire chiudere posizioni investire entrare uscire da bitcoin sapere cosa si sta facendo quindi avere veramente un proprio piano ben delineato che ci dice tutti i singoli dettagli di quello che dobbiamo fare in ogni caso quindi se la domanda viene da far la domanda ma secondo te devo entrare ma secondo te devo uscire ahimè c'è un errore di fondo c'è un errore di fondo che vuol dire che non hai pianificato è un errore molto grave perché porta a perdere soldi magari si può avere uno due tre colpi di fortuna e beccare qualche posizione che va bene che va in profitto ma non dura purtroppo la fortuna non dura mai e se non si ha un piano basta un errore che ci sbriciola tutti quanti i profitti quindi mi raccomando pianificate strategia e tutto quanto trovate sul mio canale tutti i contenuti necessari per imparare a farlo un'altra cosa che oggi che mi ha fatto un po sorridere ma in realtà anche quello è proprio lo specchio delle novità delle nuove persone che arrivano qualcuno che iniziava a chiedere ma come si fa a shortare io gli ho detto no non lo fare stai fermo lì perché se non sai neanche come si fa e cosa vuol dire se shorti vuol dire solo una cosa che sbricioli il tuo capitale quindi mi raccomando anche per quello ho messo a disposizione tanto contenuto anche sull'operatività short sulla leva ma non per fare le scommesse o per buttare via soldi come il casino ma per usarla in maniera con cioè con testa in maniera furba continuiamo detto questo che cazzo succede chi lo sa chi lo sa c'è da vedere adesso come chiudiamo il giornaliero perché a seconda di come chiudiamo può essere un vero o falso oltai mai insomma potremmo ancora chiudere sopra i 20.000 potremmo chiudere sotto i supporti che abbiamo apparentemente riconquistato vista la volatilità di oggi e i volumi ce ne sono di possibilità vedremo vedremo ciao luke conosci il wallet argent non lo conosco mi dispiace purtroppo no ciao luke buonasera a tutti completamente d'accordo con te sul modello stock to flow che mi fa piacere in realtà io do la mia visione anche su quello perché vedo anche lì a volte una devozione quasi cieca verso il modello stock to flow e dando per scontato che possa prevedere il futuro quando è un modello creato invece per andare a studiare il passato è un modello fantastico e non non voglio andare a dire che è un completamente inutile non serve a niente tempo perso è un bellissimo modello fatto per studiare il passato quindi applicarlo sul futuro secondo me è un po un peccato di arroganza anche a tratti e quindi niente gasati agli all time high bellissimo bellissimo l'hashtag ti ha preso lo stop loss lo short aperto nuovo short ormai mi trollano tutti col fatto che ho mancato i long adesso ho aperto lo short che sta rischiando di andare in stop loss no scherzi a parte lo short è ancora aperto ma ve l'ho detto tra poco poi vi spiego meglio cosa intendo è uno short di copertura è da vedere come se fosse un parziale take profit perché io ho soltanto una posizione spot long io ho il mio portafoglio con l'esposizione in bitcoin lo sapete bene l'investimento e questo short è una piccola assicurazione contro un eventuale ritracciamento tutto lì non è che sono short e basta e quindi se adesso sale io mi strappo i capelli perché comunque ovviamente il netto della mia posizione è molto più long che short tra poco magari approfondiamo anche perché ce ne sono tanti di modi per fare copertura io ne avevo citati tre anche nelle scorse dirette oggi magari andiamo a vedere qualche dettaglio in più ho lasciato aperto deribit apposta e basta insomma per fortuna ecco sulle altcoin non sta andando male per adesso ho chiuso in take profit addirittura una parte di ether bitcoin tra poco lo vediamo comunque le posizioni ciao luca secondo te la salita di oggi di btc quanto è legata alla pessima performance del dollaro grazie mille guarda in generale è sempre legata al dollaro la l'andamento di bitcoin perché ovviamente apprezzato sul dollaro tuttavia ecco il dollaro non è che fa e che che fluttuo del 5 10 per cento in un giorno quindi chiaramente non è il motivo principale non è l'indebolimento e il rafforzamento del dollaro per cui bitcoin ovviamente fluttuo di prezzo ma è la domanda e l'offerta su bitcoin stesso detto questo ovviamente sul lungo termine il fatto che il dollaro tenda a cioè motivo per motivo dell'inflazione a indebolirsi chiaramente è un macro positivo per bitcoin nasce in parte anche su quello però sul breve secondo me influisce fino a un certo punto mi permetto di dire questo stavolta non dico più che entro lunghe sono sicuro all'89 per cento perché l'ultima volta ho preso un bello stop loss e si è all'89 per cento poi ciao a tutti i gasatissimi buonasera luca buonasera buonasera potresti analizzare eos bitcoin grazie mille volentieri anche perché secondo me non ci mettiamo molto andiamo a vedere eos bitcoin se ce l'ho ancora qui sulla watchlist si ce l'ho e dunque 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 guarda facciamo sul settimanale perché tanto ripeto non non c'è molto da dire è una coin che ha avuto una caduta libera veramente disarmante e è arrivata quasi ad approcciare i suoi minimi storici dal listing su binance sto guardando al momento c'è qualche tentativo un po timido mi permetto di dire perché la ha sfiorato una prima resistenza che è questa questa qua credo di averla messa sul time frame giornaliero su in particolare nasceva da questo livello insomma è l'ultimo low secondo me l'ultimo swing low giornaliero però vedete che è stato immediatamente assorbito siamo in una condizione di lateralizzazione al momento cioè bisogna zoomare alla grande perché è veramente microscopico il movimento però non c'è accenno all'inversione di struttura come vedete il settimanale è palesemente bearish abbiamo i minimi decrescenti abbiamo i massimi decrescenti quindi non c'è veramente nulla da fare se non stare insomma a guardare e tenersi le mani in tasca secondo me non vale la pena aprire nessun tipo di posizione ovviamente io faccio sempre delle osservazioni speculative non vuol dire che se uno vuole investire in eos perché ha fatto le sue analisi e nel portafoglio investimenti vorrebbe avere eos allora non lo può fare io parlo di speculazione guardo il grafico ma non mi permetto di dire è giusto è sbagliato investire in eos perché quella è una scelta personale io non lo faccio però sta a ognuno di noi allora buonasera a tutti buonasera a tutti gasati buonasera a luke buonasera a tutti all time high via tutti tutti a cantare l'all time high alla fine bitcoin ci lascia lì col con l'amaro in bocca chi lo sa chi lo sa vediamo vediamo cosa succede long de ponzi ride bitcoin back grande long de ponzi mitico è uno degli slogan che su twitter vanno vanno per la maggiore orsaccio della malora eccolo che iniziano a darmi del gufo si bu io voglio voglio dampare adesso comincio a dampare anch'io dove siamo fino hai provato a giocare a token fighter guarda purtroppo sul mondo del gaming degli nft così sono un attimino fermo ma 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 adesso intenzione di rientrarci in maniera un po più come dire continuativa perché al momento mi sto dedicando ad altre cose in primis all'implementazione di un nuovo algoritmo che adesso poi magari vi condivido e sto cercando insomma di fare cose che mi hanno tolto un po di tempo però ci torniamo ovviamente arriviamo tutti un po in ritardo siamo passati ad ordinare la porsche invece io vi faccio vedere il mio ultimo investimento del weekend guardatelo com'è bello tac è il palazzo del campidoglio fatto di lego bellissimo adesso lo piazzo lì appena ci trovo un po' di spazio devo mettermi a riordinare questa stanza perché è veramente agghiacciante allora dove siamo arrivati gli uchi in base a cosa metti queste zone verdi allora bella domanda mi è piaciuta bravo queste zone verdi sono dei pool di liquidità in domanda in base a cosa li metto te lo dico subito allora un pool di liquidità per me è una definizione su cui torniamo spesso ma vale la pena davvero andarla magari anche a ripetere una volta in più anche a costo di risultare noiosi è una zona che funge in tutta in ultima analisi da supporto da resistenza è sempre lì che andiamo a parare non è un livello esatto come potrebbe essere magari un prezzo al quale c'è una respinta molto forte che questo per definizione diventa poi una un supporto o una resistenza tanto più è forte la respinta tanti più volumi ci sono in gioco tanto più diventa significativo quel livello di prezzo il pool di liquidità una cosa un po' simile permettetemi di dire perché in sostanza si traduce con facendovi sempre un disegnino supponiamo di avere un movimento in atto ok di questo tipo e abbiamo multipli dei tocchi multipli a un livello di resistenza questo ovviamente diventa un livello di resistenza e questa non è assolutamente una novità nel caso in cui magari oltre a questi tocchi multipli dovessimo avere delle shadows che vanno a bucare e temporaneamente perché poi vengono subito respinte facendo dei falsi break oltre a questo livello se ne crea un altro sopra che potrebbe essere ad esempio quest'altro è un altro livello chiave l'unione di questi due livelli chiave che è la zona tra la chiusura della maggior parte delle candele e i tocchi la maggioranza dei tocchi delle shadows io lo definisco pool di liquidità perché sostanzialmente qui dentro c'è molta appunto liquidità cosa vuol dire vuol dire che abbiamo provato ad attaccarlo ma è stato subito assorbito vuol dire che c'era dell'offerta di nuovo ancora 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 una volta che viene rotto il livello ok c'è il flip della liquidità cioè prima c'era offerta 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 e quindi ogni volta che entrava in questo pool l'offerta legnava perché voleva difendere le sue posizioni short questo è lo scopo ultimo una volta che tutta la liquidità viene assorbita quindi l'offerta viene assorbita dagli acquisti dai buyers quindi non c'è più la liquidità in offerta ma solitamente flippa a domanda così come fa una resistenza che diventa supporto questo perché perché tutti gli short sono stati presi e spesso stoppati soprattutto se dopo il break dopo l'assorbimento del pool arriviamo un po' lontano ci fa capire che comunque buona parte di quelli che hanno shortato qui sono stati stoppati e quindi chi adesso vuole aprire delle posizioni concordi al mercato utilizzerà proprio quest'area dove prima c'era tanta liquidità da una parte e adesso è stata assorbita completamente per aprire posizioni dalla parte opposta ovvero in questo tipo in questo senso e quindi in sostanza si inverte il significato del pool stesso spesso e volentieri io li segno sui grafici ancora di più dei livelli singoli di prezzo perché vedo che ci comportiamo molto bene approcciandoli in particolare se adesso li andiamo a vedere uno a uno ne abbiamo uno qua ad esempio nato tra queste chiusure e queste shadows poi ne abbiamo uno qua nato tra questa chiusura e questa shadow che siamo andati anche a ritestare vedete ha scatenato domanda per l'appunto poi ne abbiamo uno qua e la logica è sempre la stessa e se ci fate caso spesso è speculare perché fin qua era un pool di offerta vedete offerta offerta le shadows che vengono assorbite poi è stato rotto e poi è diventato un pool di domanda e quindi insomma la logica è un po' questa per tutti vale la stessa identica cosa andare a inquadrare un po' la zona tra chiusure e shadows per avere un'area nella quale concentrare un'eventuale operatività su quel livello lì continuiamo dunque dunque è la prima volta che riesco finalmente a scriverti un messaggio in diretta live ma grandissimo benvenuto live se è il tuo primo live magari eri un cosiddetto lurker ovvero tu eri live ma non scrivevi in ogni caso spero che ti trovi bene e che tornerai sempre ciao Luke che cos'è uno swing? bene mi piace oggi questo angolo questo glossario sul glossario del trading allora uno swing è definito in questo modo come un movimento di fatto un impulso direzionale che può essere rialzista o ribassista uno swing è costituito da un high e da un low quindi sostanzialmente questo potrebbe essere un low questo un movimento e questo un high ok poi questo in realtà è una fase laterale quindi non c'è un vero e proprio swing low e andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti questi sono gli swing high e questi sono gli swing low qua ecco la domanda più difficile è ma che cos'è che mi dice che questo è uno swing e non che questo è uno swing e questo è il suo swing low allora lì ci sono alcune teorie che dicono che se ci sono tre candele almeno nella direzione inversa si ha già uno swing se c'è un tot di giorni a fila in cui ci muoviamo allora quello è uno swing io sinceramente non mi perdo troppo in queste nozioni anche perché poi guardo concretamente il significato che lo swing nella mia operatività deve avere ovvero andare a prendere lo swing high e lo swing low perché sostanzialmente spesso sono dei livelli interessanti importanti per andare a posizionare gli stop in ogni caso senza farla troppo difficile perché è un eccesso di nozionismo lascia un po' il tempo che trova uno swing è un movimento caratterizzato da un low e da un high quindi dove tu riesci a vedere che c'è un high e poi un'inversione di movimento questo è un high e questo è uno swing ok banalissimamente e allo stesso modo quando poi c'è il movimento a rialzo quindi hai un higher high quello prima diventa il vecchio swing low e tu avrai da lì la ricerca del nuovo swing high finché non farai un'altra flessione e si cercherà il nuovo low e così via e poi ovviamente c'è il momento di inversione di struttura quando da una sequenza di massimi e minimi crescenti swing low e swing high crescenti tu inverti appunto la struttura e per la prima volta fai un minimo più basso e allora da lì c'è il discorso appunto di inversione di struttura ma non cambia la definizione di swing insomma spero di essere stato chiaro e soprattutto non troppo prolisso perché si potrebbe parlarne per ore ma non avrebbe neanche troppo senso allora missato per poco l'alltime high in diretta infatti qualcuno di voi mi ha scritto mi ha detto dai anticipa il live porta avanti le lancette anticipa il live di un paio d'ore che così ti becchi l'alltime high in diretta che poi in realtà c'è stato sì forse sì perché io ho visto che sugli exchange spot io seguo ad esempio bitstamp mi pare che di fatto sia un all time high perché il vecchio all time high era 19.008 vedete quindi abbiamo un sensibile all time high tuttavia insomma fino alla chiusura della candela non so dite che vale la pena festeggiare perché io ho portato c'ho lo champagne qua da stappare guardate una bottiglia d'acqua si festeggia pesantemente oggi nel caso in cui partiamo però non lo so se c'è chi tiene 20.000 come riferimento sui perpetual era arrivato a 20.000 io infatti guardavo sempre lì ci ho sempre aperto questo grafico qua per il quale è 20.000 il riferimento allora domani si lancia Ethereum 2.0 fomissima per me guarda io non mi aspetto niente su Ethereum domani non mi aspetto movimenti perché sì ok bello che domani lancia però non è che insomma è una cosa che già si sapeva da secoli e quindi non lo so mi farebbe strano vedere dei movimenti marcati speculativi detto questo però noi rimaniamo sul pezzo perché visto che domani lancia qualcuno di voi mi ha proposto di andare a visionare tutti i metodi di staking di Ethereum 2.0 anche per chi non ha 32 Ether e visto che ce n'è una valangata io credo che domani ne parleremo cosa ne dite vi può piacere come idea oppure no in realtà io ho già scelto quindi non faccio neanche il sondaggio perché veramente in tanti di voi me l'hanno chiesto ci sono servizi di ogni tipo a partire dagli exchange arrivando agli staking pool che ce n'è ultimamente si parla molto di staker ma non è assolutamente l'unico ce n'è tanti tanti altri ognuno con le sue caratteristiche insomma vale la pena secondo me affrontare l'argomento in maniera un po' completa per capire quali sono tutte le possibilità di staking su Ethereum 2.0 con o senza i famigerati 32 Ether quali sono i vantaggi e gli svantaggi quali sono i rischi di ognuno di essi e quindi domani state tutti sul pezzissimo perché ne parleremo allora continuiamo ti seguo sempre sul tubo oggi prima live ma grande mi fa un sacco piacere quando vedo nuove persone che arrivano grandi 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 all time high a quanto? quanto sopra i 20.000 quando? non ne ho la più pallida idea cosa ti aspetti da BTC nei prossimi giorni? guarda io mi aspettavo la cosa che mi aspettavo era un perché allora effettivamente io ho aperto lo short forse in maniera un po' prematura ma ne parlavo prima su Discord con gli amici della community parentesi entrate nel gruppo Discord se non ci siete trovati i link nella descrizione o qua sotto a Twitch e l'idea appunto per coprire il mio long di The Old che è la totalità della mia posizione io avevo aperto il mio shortino qui e avevo messo lo stop loss in alto sopra i 20.100 in sostanza quello che mi aspettavo era sicuramente un altro cioè sicuramente con buona probabilità un altro attacco alla zona dei massimi che poi mi direte si va col senno di poi è facile effettivamente non si può mai sapere prima però tra le varie ipotesi quando c'è un livello ovvio quando c'è uno scenario ovvio di solito il mercato fa di tutto per andare a fregare chi ha seguito lo scenario ovvio perché ci fa sentire tutti furbi quando c'era il dump così allora si saranno aperti un sacco di short perché è shortare vicino al top tu hai lo stop loss bello telefonato subito sopra i massimi e hai un rischio rendimento teoricamente pazzesco certo troppo bello per essere vero allora il mercato cosa fa torna su ti prende lo stop loss e poi ridump questo è uno di quegli scenari che sinceramente mi aspettavo con discreta possibilità probabilità per affrontare uno scenario del genere ovviamente un metodo è reiterare poi gli short perché se l'idea è quella di coprire la tua posizione non ha senso se te la stop alla prima allora dire no vabbè amen non lo faccio mai più se poi ti si ripresenti il setup perché è proprio c'è un discorso sempre probabilistico il trading non c'è mai la certezza e quindi anche il non farsi scoraggiare dal primo stop fa parte del gioco ma di quello ne parliamo tra poco per il discorso posizioni in ogni caso ve l'ho detto io con buona probabilità mi aspettavo magari anche un sopra i 20.000 e così da far urlare fomo a tutti da far scattare tutti gli stop buy perché non oso immaginare quanti breakout traders ci saranno qui dentro e inoltre generare altro pump generare liquidità e poi dampare e magari fare il ritracciamento vero e proprio non lo so questa era una possibilità un'altra possibilità è che quando ovviamente rompiamo i 20.000 parte una fomo senza senso e facciamo due o tre giorni a fila in verde a galloppare solo che poi ritorniamo nello scenario di iperestensione perché questo non è un ritracciamento per chi magari si fosse illuso che abbiamo ritracciato bene adesso si può ripartire questo non è minimamente un ritracciamento questo è un dip un calo durato due giorni già che siamo qui adesso analizziamo il grafico perché così condensiamo l'argomento tutto in questo blocco di video e andiamo a vedere un po' qual è la situazione e come io personalmente la sto affrontando allora il gran parte delle cose le abbiamo già dette perché abbiamo già introdotto il discorso della possibilità di falso falso all time high falso breakout abbiamo visto il discorso della copertura che adesso andiamo ad approfondire meglio e insomma quello che bisogna andare a vedere adesso è come ci comportiamo in questa fase turbolenta perché è inutile voler affrontare le fasi turbolente in anticipo cioè è difficile davvero andarsi a posizionare in anticipo in un contesto che è così da un lato troppo ovvio e dall'altro complicato perché come vedete ci sono delle oscillazioni marcate da entrambe le direzioni quindi c'è un rischio veramente grosso di andare a farsi saltare lo stop loss qualcuno mi ha detto oggi sì io sono pronto a mettere ho il mio stop buy a 20.000 e 1 così entro e poi cavalco il pump con un trailing stop stretto sì però metti che ti fa 20.000 e 1 poi un tampino e poi riparte e cerino in mano anche lì è un po' uno spreco della posizione perché una volta che appunto si entra nella zona proibita tra virgolette quindi in price discovery una volta superato il massimo reale è veramente cioè l'ignoto è come andare a finire in un posto dove la gravità è sconosciuta non si sa bene cosa succederà anche perché sì si può dire io mi aspetto che comunque pompiamo sì ma durante quel pump lì che dinamiche ci sono perché se ci sono degli strappi del genere durante il pump è sufficiente per far saltare dei trailing stop e poi a seconda delle condizioni generali del mercato quindi di come si sono posizionati tutti i trader in quel movimento lì si ha un esito quindi che può essere un esito di assorbimento o un esito di continuazione quello lo si può sapere hai me solo dopo una volta che si sa però si ha un mattoncino in più per andare a costruire una nuova struttura cioè si capisce se l'all time high è stato preso con che forza cioè come si presenta un po' lo scenario in vista del movimento avvenuto non prima perché prima veramente si può soltanto fare ipotesi non c'è niente di più facile come dicevo quando si palesa così c'è una resistenza ovvia sotto gli occhi di tutti tutti proprio non c'è nessuno che non osserva questo livello e quindi lì pensare di poter prevedere come andrà è veramente sbagliato cioè anch'io che vi ho detto mi aspetto un falso break in questo modo se tutta la maggioranza della gente si aspettasse come me in realtà quello che accadrebbe sarebbe un pump reale che poi chiude molto a rialzo e il discorso è sempre quello il mercato tende sempre a fare male a più persone possibile questo è quello che l'esperienza mi sta dicendo quindi fondamentalmente quello che io sto seguendo al di là del discorso degli short da reiterare perché ho intenzione di coprire parte della mia posizione non appena si palesa un potenziale setup short come era ad esempio questo perché di fatto avevamo un massimo un massimo un po' più alto poco più alto però questa differenza era poca questo è il primo segno di arrancamento del trend e poi c'è stato un sell off uno scarico con chiusura tra l'altro qua sotto e anche il giorno seguente c'è stato follow up cioè indifferente ma non comunque di assorbimento e quindi ho detto boh inizia un po' la fase di sell off c'è un potenziale setup short e quindi lo sfrutto in sostanza tutti i supporti persi diventano dei potenziali entry short io ho scelto di entrare con la mia posizione short completamente su questo ma si poteva tranquillamente andarla a frammentare e quindi questo era un possibile setup lo stop loss dove lo mettiamo? ecco qui c'è veramente la domanda più difficile perché mettere lo stop loss stretto sopra il precedente swing high e qui torniamo alla definizione di swing questo è lo swing high lo mette veramente in pasto agli squali che sono sul mercato perché cioè questo livello è sotto gli occhi di tutti assieme a tutto questo pool di offerta dell'all time high perché questo che vedete in rosso se noi prendiamo il settimanale vedete è un pool di offerta sempre definizione data prima tra la chiusura e la shadow dei livelli storici e quindi sono veramente dei livelli di prezzo sotto gli occhi di tutti trader sul giornaliero intraday sul settimanale tutti quanti hanno gli occhi puntati lì quindi andare a mettere uno stop loss appiccicato vuol dire rischiare enormemente di farselo saltare a costo di un rischio rendimento migliore ne vale la pena non ne vale la pena io personalmente preferisco andare a penalizzare sensibilmente il rischio rendimento al prezzo cioè col vantaggio però di avere uno stop non troppo stretto e quindi anche nel caso in cui dovessimo dare una testata e scavare un po' per prendere liquidità non per forza ti deve saltare poi ovviamente se parte un pump di quelli disumani ti salta comunque e lì amen sono cose che possono succedere shortare vicino a un top o shortare vicino a un livello importante comporta questi rischi e lo devi sapere non devi presumere che accadrà come hai detto tu detto questo supponendo che adesso mi salta lo stop loss e poi ritorniamo giù qualora ci fosse un altro setup short ripeto ad esempio la riperdita di questo livello quindi un assorbimento del breakout innanzitutto e una riperdita ad esempio di questo livello andrei di nuovo a shortarlo perché? perché comunque sarebbe il medesimo setup nella fotografia che mi sono fatto all'inizio finalizzato sempre a coprire la mia posizione long perché ripeto io sono net long io possiedo bitcoin nel mio portafoglio investimenti non ho nessun'altra posizione speculativa aperta su bitcoin shortare in questa situazione equivale a dire io uso una piccola parte dei miei bitcoin come piccola copertura assicurativa che da utilizzare in modo che se il prezzo dovesse iniziare a scendere mi ammortizza la perdita che altrimenti sarebbe una perdita elevata proprio perché io ho il mio hold in bitcoin che è la totalità della mia posizione al contrario se bitcoin dovesse pompare chiaramente lo short viene stoppato e basta ho una perdita realizzata lì però nel mentre il controvalore del mio portafoglio investimenti va aumentando questo poi si va a integrare col discorso del ribilanciamento e quindi deve rispondere tutto ai calcoli che uno ha in testo ovvero come gestire il proprio portafoglio però non è semplicemente un dire io penso che adesso crolla allora apro lo short non è così semplice così banale quindi adesso il bullish scenario ovviamente è quello di riconquista di questo livello quindi di chiusura qua sopra ed eventualmente di follow up a questo punto aspettando l'all time high effettivo all'all time high sarebbe bello vedere delle candele piene come può essere ad esempio questa che chiudono con chiarezza sopra l'all time high stesso in modo da dire l'abbiamo preso l'abbiamo riconquistato quindi no a candele tipo una shadow così e la chiusura qua sotto che sarebbe veramente una cosa non dico apocalittica ma quasi no alle candele del tipo abbiamo una shadow lunghissima e una chiusura subito qua che sarebbe meno peggio della precedente ma paleserebbe comunque per la maggior parte offerta perché la shadow è offerta di fatto cioè la domanda spazza via l'order book l'offerta vende assorbe l'impulso e arriviamo a una posizione che non è bellissima perché andiamo a mettere un'ai fortemente puntiforme poi invece si a candele del tipo tac e chiudiamo così oppure tac e chiudiamo così con una shadow discretamente limitata il che significa che la domanda vince la domanda ha la meglio sull'offerta questo è ciò che importa di più in assoluto e poi da lì si sta a vedere perché vediamo poi io sono cioè il mio metodo di trading non è il correre dietro il breakout anche se sto scoprendo che sempre più persone si muovono sul breakout quindi anche quello è un'operatività diversa dalla mia non per forza è migliore non per forza è peggiore però a me non mette non mette a mio agio io preferisco aspettare la prima chiusura e poi eventualmente andare a identificare un pool di liquidità nuovo in domanda dove andare a posizionare un eventuale retest e alla peggio missarlo vabbè preferisco fare meno operazioni io sinceramente ma più concentrate e più caute è il mio approccio ormai lo saprete se mi seguite lo saprete oserei dire e quindi quello è lo step successivo del caso bullish nel caso di breakout io osservo la chiusura innanzitutto il follow up del giorno dopo e poi si inizia ad andare a individuare delle potenziali aree di ingresso con l'attenzione che siamo in una situazione estremamente estesa quindi la cosa che farei io è quella di seguire si speculativamente ma comunque avendo sempre chiaro un take profit quindi non credo che andrei ad aprire delle posizioni particolarmente di lungo di medio lungo periodo sull'ambito speculativo il take profit ovviamente in price discovery non esiste per definizione perché insomma non ci sono altre resistenze si potrebbe utilizzare ad esempio Fibonacci so che qualcuno lo fa e me l'avete anche suggerito la scorsa volta tant'è che abbiamo anche fatto delle prove facendo il ritracciamento al contrario addirittura partendo dalla parte dal minimo anche della zona di lateralizzazione prima del breakout che individuerebbe un target di 26.200 o altrimenti spostando questo Fibonacci al breakout stesso individuerebbe un target di 25.800 c'è poca differenza però più o meno la zona è quella lì il nostro Fibonaccio dice poi invece per quanto riguarda lo scenario bearish vabbè poi ovviamente in caso di breakout e di all time high sull'intraday ci si può sbizzarrire con l'operatività long per chi ovviamente opera sull'intraday perché mi aspetto che ci saranno volumi galloppanti e ci sarà da divertirsi anche su quello lo scenario bearish al contrario è di nuovo la perdita di questo livello di questo pool di liquidità qua questo qui per me non è sufficiente da definire uno scenario bearish perché comunque come avete visto è un pool di liquidità piccolo non particolarmente significativo potremmo dire che ne è addirittura nato un altro qua sopra e si può anche includere poi questo da domani in poi e anche questo vedere chiudere la candela sotto di esso quindi di fatto sarebbe un falso un falso nuovo massimo perché se chiudiamo qua sotto il nuovo massimo è annullato non è fatto c'è la chiusura sottostante però ripeto non è sufficiente per definire un caso bearish la perdita di questo per quanto mi riguarda neanche la perdita di questo pool quindi un ritorno da queste parti invece sì e quindi ci sta poi l'eventualità di ricerca dello short di nuovo in questa zona questo anche se succede dopo al break anzi se succede dopo il break è ancora più significativo perché andremo a creare una nuova area di domanda scusate che se poi andiamo di nuovo a perdere creiamo un altro falso break e quindi un altro costrutto potenzialmente di top di breve è tutto da vedere adesso non si può fare troppi progetti troppi piani e bisogna capire come ci si vuole posizionare per dirvi un altro tipo di operatività che ho sentito oggi parlando con amici della community qualcuno ha già in mente di longare il retest su questo livello di prezzo qui qualora ci sia per anticipare addirittura il breakout è un'operatività che io glielo ho detto gli ho detto caspita io non lo farei mai ma rispetto ovviamente la tua operatività perché magari poi hai ragione anzi ti auguro di avere ragione però io operare sotto una resistenza così forte come il massimo storico non me la sentirei però lui giustamente mi fa sì sì lo so sono consapevole del rischio infatti ho il mio stop loss poi qua sotto e la posizione è proprio tende quasi al gambling ma detto del tipo che se gli va bene gli va molto bene se gli va male gli va poco male perché lui dice se mi va bene comunque io entro con un ottimo profilo di rischio rendimento e cavalco l'eventuale ondata se mi va male vengo stoppato lo stop è abbastanza stretto e il capitale a rischio non è elevato mi piace anche condividere con voi altri tipi di operatività che non è la mia perché non voglio far passare l'idea che quello che faccio io è giusto e il resto è sbagliato perché non è affatto così anzi spesso quello che faccio io poi si rivela sbagliato ma è un confronto continuo questo 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 mercato e il trading in generale quindi vale sempre la pena avere spunti invece andiamo a vedere un po' di altcoins poi se avete domande ovviamente vi leggo anche su bitcoin su approfondimenti eccetera andiamo a vedere ethereum che come sapete avevo fatto compounding della posizione andando ad aprire un altro long più speculativo con questa configurazione qui quindi era un entry sul punto medio di questo pool di liquidità in domanda di nuovo torniamo al concetto di pool di liquidità dal quale ultimamente sono ossessionato e take profit su questo livello di prezzo qui 0.0318 ve l'avevo condiviso step by step su telegram e questo livello di prezzo altro non è che un livello chiave su time frame settimanale nasce qui qui non c'è il pool come vedete perché è un livello puntiforme c'è una respinta forte puntiforme e genera un livello di resistenza chiave poi abbiamo di altri livelli chiave quest'altro 0.0335 cluster intermedio settimanale che abbiamo sfiorato l'ultimo movimento e sul quale ho intenzione di andare a fare un altro compounding long se lo andiamo a riprendere qualcuno mi ha detto sempre per condividere altre operatività a tal proposito io vi incentivo sempre a condividere la vostra operatività parlo per gli amici che sono su discord per chi ha voglia semplicemente di confrontarsi ecco anche in messaggio privato magari non vi rispondo ma vi leggo io li leggo quasi tutti i messaggi privati tranne gli scammer e in sostanza così poi condivido anche in live con gli altri amici la vostra operatività perché ne vale la pena qualcuno ha detto di utilizzare già questo livello quindi quello che per me è stato il take profit in caso di reclaim sul settimanale perché effettivamente mi diceva giustamente io guardo lo stesso time frame sul quale si forma il livello di prezzo che ha senso per avere un reclaim ha completamente senso quindi in caso di chiusura magari qua sopra ci sta andare a cercare di nuovo il long con entry sul livello stesso e take profit su questo cluster intermedio è un'operatività assolutamente sensata io preferisco aspettare qua su perché da un lato ho una maggior direzionalità diciamo andiamo a riprenderci anche questa shadow diamo più conferme a movimento e in seconda battuta io ricordo che ho già un'operazione long aperta che è quella che aveva un entry in questa area qua e stop loss sotto a questo livello di cui in parte ho fatto take profit parziale di nuovo sempre qua per escludere il rischio quindi quella parte di posizione lì in sostanza adesso è risk free se mi va in stop loss non ci perdo più vado in break even e la lascio correre trend follower quindi ho già un'esposizione long speculativa su ethereum oltre allo spot long di holding quindi bisogna inquadrare sempre anche la posizione in toto e basta su ethereum non avrei altro da dire se non lo scenario bearish che è eventualmente inizialmente la perdita di questa zona che si è formato un bel pool di liquidità qua anzi ha confermato il pool già esistente e in seconda battuta ovviamente l'andare a fare nuovi minimi che ahimè sarebbe un brutto scenario per ethereum vediamo domani se davvero c'è qualche movimento speculativo dopo il 2.0 ma non mi aspetto granché poi yearn yearn finance è l'altra posizione che ho aperta adesso nel frattempo bitcoin sta pompando non lo so lo andiamo a rivedere l'ho aperta e è ancora aperta perché c'è lo stop loss largo il take profit largo è una posizione con ampio respiro lo stop loss è sotto questo swing low il take profit è quassù al livello di prezzo definito da questo piccolo spike è aperta è spot senza leva senza niente di che un semplicemente un buy su binance di yearn finance con lo stop loss lì sotto e il take profit là sopra niente di particolarmente esotico bene benissimo quindi non abbiamo altro da dire sulle altcoin oserei dire no andiamo a rivedere btc cosa ci combina e ripasso la parola a voi cosa ne dite allora vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' volevo segnalare che con il codice promo bf last day si ha uno sconto aggiuntivo per acquistare il ledger valido solo oggi non lo sapevo quindi se non avete ancora preso il ledger c'è uno sconto del 45% pazzesco io vi sto scillando il link quindi usate anche questo codice sconto io mi vado in buona fede do per scontato che è giusto e ti ringrazio Mirko e ti guadagni anche te le meriti tutte direi un po' di shitcoin cosa ne dici cosa ne dici quante te ne diamo hai 406 shitcoin te ne meriti allora 14 così arriviamo a fare cifra tonda a 420 a tal proposito vi condivido anche la classifica dei migliori shitcoin guardatela qua tac abbiamo in testa aspettate adesso la refresh perché secondo me qualcosa è cambiato facciamo un bel refresh abbiamo in testa mattia la pack con la plaque con 670 shitcoin vicinissimo al premio poi abbiamo z greg con 541 e mazzego con 492 sono il nostro podio a mille ricordo c'è il premio 0.006 btc mi raccomando continuate a spingere andiamo avanti ciao luca seguo sempre in differita sul tubo oggi prima live in diretta ma grandissimo grandissimo continua così spero di rivederti gasati agli old time high grandi mitici ci manca solo che la hitcoin faccia un più 30 si ormai via è delirio è delirio condivido con voi un semplice pensiero ottimo molte persone parlano del libro di kiyosaki e di quanto quella lettura possa portare ad un'illuminazione su come trattare l'economia io però non farei quello che kiyosaki dice ma quello che kiyosaki fa la chiave qui è il libro stesso la sua fortuna è la sua creatività il suo investimento sono le sue idee per esempio creare entrate dal proprio libro abbiate dunque idee ed investite su di esse luca è un esempio perfetto ti ringrazio per la citazione e aggiungo un paio di parole anch'io sul discorso di penso che tu intenda il famoso padre ricco padre povero ma c'è anche il quadrante del cash flow insomma sono libri interessanti di cui consiglio la lettura ma senza sopravvalutarli perché non lo so secondo me ci sono dentro alcuni concetti che rischiano poi di diventare un po' dei luoghi comuni come quello di di dare contro per forza di cose al lavoro dipendente di voler insomma di dare un senso di superiorità a chi fa una cosa rispetto un'altra non lo so sono concetti che non mi sono mai piaciuti particolarmente e credo che bisogna insomma leggerlo con un velo di senso critico detto questo sono assolutamente d'accordo sul fatto che se una persona è incline a fare quello al volersi mettere in gioco mettere in primo piano a monetizzare le proprie idee fatelo assolutamente perché vi dà una soddisfazione che appaga in una maniera incredibile ma non ci deve essere l'ossessione a fare questo se una persona sta bene a fare la sua carriera a fare il suo lavoro lo soddisfa magari riuscire a fare grandi cose per grandi aziende non c'è niente di più bello neanche di quello quindi non c'è una persona migliore di un'altra questa è un po' la mia opinione forse un po' di demagogia anche però io la penso così ciao Luca se ho già PaxG in portafoglio ha senso investire nei metalli su Bitpanda ma guarda io ti dico lì ha senso se vuoi uscire dall'oro perché per l'oro per quanto mi riguarda non c'è niente di meglio di Pax Gold per quanto a commissioni a gestione a liquidità e tutto quanto perché su Bitpanda ci sono delle commissioni anche talvolta abbastanza rilevanti quindi bisogna fare un po' i conti su quello ovviamente sul discorso del palladio sul discorso del platino potrebbe essere più interessante perché che dire è difficile trovare un prodotto simile però bisogna sempre fare i propri conti con le quantità con il capitale che ci si vuole mettere e così via allora ecco appunto la copertura con proporzione con che proporzione ha fatto e con che leva allora per adesso io ho fatto una cosa veramente semplice cioè veramente bassissimo profilo con scopo eventualmente di fare compounding ma inizialmente la posizione ha un capitale a rischio R quindi banalmente il 2% del mio capitale speculativo esattamente come fosse un trade speculativo è una piccolissima copertura e poi l'idea è quella cioè la copertura reale cioè del tipo io vado a coprire lo spot in percentuale lo faccio se c'è del rischio di inversione del trend quindi se c'è una struttura su time frame più elevato come il settimanale che si va ad incrinare altrimenti si parla di una piccola copertura speculativa che è un po' il contrario di fare by the deep il cercare di aumentare i propri bitcoin durante queste piccole correzioni flash non vi ho detto adesso lo faccio subito gli altri metodi di copertura ovvero le opzioni la vendita di opzioni call o l'acquisto di opzioni put la differenza qual è? io oggi ho condiviso con voi su discord una posizione però purtroppo qua non mi fa aprire aspettate che provo a fare una cosa così provo ad aprire discord e a condividervi quell'immagine e così vi faccio avere un'idea un po' più chiara perché secondo me potrebbe essere utile il profilo proprio dell'opzione stessa allora andiamo a vedere dov'era finita perché la devo andare a recuperare non scappate perché è interessante è veramente interessante questo discorso le coperture sono importantissime sempre che discord mi risponda e vada a fare farmi vedere quello che voglio ci siamo quasi me lo sento eccoci devo scorrere perché è un discorso di stamattina dai che ce la facciamo eccolo qua ce l'abbiamo fatta allora allora ve lo condivido subitissimo così avete un'idea più chiara anche voi tac vediamo se vi fa vedere la finestra scusate però tutto così in diretta eccoci qua ce l'abbiamo fatta allora questo è il profilo di stamattina di profitto e perdita l'ho preso da Deribit è il simulatore di posizioni pb.deribit.com e sostanzialmente questa curva vi dice a scadenza dell'opzione ho preso un'opzione del 25 dicembre che scade a Natale quanto vale la vostra posizione allora stamattina era 18.495 spero che stiate vedendo tutti immagino di sì sì e in sostanza questa curva come mai è così allora ho preso come campione una posizione che ha un future long quindi un bitcoin un bitcoin spot più due call due opzioni call vendute con strike price 18.000 e scadenza 25 dicembre le opzioni call vendute vuol dire che io incasso subito il premio dell'opzione stessa che al momento ve lo faccio vedere no ve lo faccio vedere dopo se no devo chiudere lì comunque incasso subito il premio dell'opzione e poi si può chi l'ha acquistata la può esercitare quindi io devo stare attento che l'opzione ovviamente non vada cioè che che il prezzo di bitcoin non aumenti troppo altrimenti chi ha comprato l'opzione ne esercita il diritto e io ci perdo come vedete infatti la curva è decrescente e al contrario se ovviamente bitcoin dump più del premio che ho guadagnato il mio long ci perde e quindi la curva è decrescente anche a sinistra al centro tra un prezzo che va tra circa 21.000 qualcosa a destra e 15.000 qualcosa a sinistra io ho un'area che comunque è di profitto perché perché le call vendendo un'opzione se il mercato sta fermo io ci guadagno perché ho incassato il premio e comunque l'opzione si svaluta nel tempo l'effetto teta si chiama e quindi io ci guadagno sono contento se sta fermo sono anche contento se cala ma non troppo perché ho un break even point dato dal punto di incrocio del mio long spot che si continua ad apprezzare aumentato traslato in alto del premio dell'opzione che ho incassato e quindi io vado a creare questa punta questo cuneo che è abbastanza ampio in questo caso di zona di profitto ed ha una buona copertura temporanea per esempio perché è la scadenza del 25 dicembre altra cosa possibile benissimo ciao un saluto agli amici di discord che oggi sono più attivi che mai però adesso lo nascondo un'altra possibilità è l'acquisto di un'opzione che cosa cambia tra la vendita e l'acquisto allora la vendita aveva quella conformazione che abbiamo visto poco fa l'acquisto io lo vedo come una cosa più speculativa per quale motivo perché ovviamente si andrebbe ad acquistare un'opzione put per andare a approfittare da un ribasso e quindi a coprire uno spot long ad esempio prendiamo sempre la scadenza 25 dicembre lo strike price 18.000 l'opzione put questa ad esempio adesso ha un prezzo di 770 dollari circa però c'è un però guardate quanto scilla il prezzo il giorno 26 novembre che è poco fa è il giorno del dump questo giorno qui per capirci 26 novembre l'opzione l'opzione put questa è arrivata a costare 0.14 bitcoin e adesso ne costa 0.4 capite quanto scilla il prezzo si parla di un 3x tendenzialmente nel caso in cui si replichi quell'andamento lì adesso non bisogna vedere le opzioni così perché altrimenti diventa un casino di nuovo però come opzione di copertura io pago un premio una sorta di assicurazione che sono questi 800 dollari e poi ovviamente se ho un dump riesco anche a speculare rivendendola subito al doppio al triplo del prezzo senza doverla esercitare a scadenza e se al contrario attenzione il prezzo pompa però si deprezza veramente in maniera importante la cosa certa dell'acquisto di un'opzione è che io la copertura ce l'ho e non perderò mai più del premio dell'opzione questo è il suo piccolo vantaggio non voglio tediarvi troppo con le opzioni perché mi rendo conto che sono un discorso da affrontare magari in separata sede l'abbiamo già fatto per chi vuole andare a farsi un'infarinatura sulle opzioni c'è una playlist sul mio canale youtube però insomma è un metodo interessante utile confermo codice bf last day sconto 45% appena usato bravissimi bravissimi ottimo approfittatene perché il ledger è fantastico secondo me se ci rispieghi bene le metodologie di copertura potremmo tutti tranne vantaggio in questo periodo di fermento di btc grazie guarda spero che questo angolo opzioni sia stato utile ed interessante ciao Luca mi sono iscritto col tuo refer alla ftx grazie mille un giorno ci fai una bella spiegazione degli ordini avanzati grazie guarda perché no potrebbe essere un argomento di video potrebbe tranquillamente essere l'ottimo ftx ottima scelta avevo già fatto un paio di video un po' di tempo fa su ftx però effettivamente mai troppo approfonditi ho sempre paura di annoiarvi ciao Luca ti è arrivata la carta jade non ancora non ancora oggi non sono ancora andato a controllare la posta perché c'è anche la binance card fisica che mi sta arrivando che non avete idea di quanto hype ho addosso dunque ciao Luca dove hai imparato l'analisi tecnica e le opzioni guarda in maniera da autodidatta ho letto un paio di libri ma secondo me non è quello che mi ha dato il grosso sull'internet trovi di tutto tra l'altro ti consiglio se sei dentro al nostro gruppo discord se non ci sei entraci c'è un canale che si chiama materiale didattico all'interno del quale trovi a disposizione tantissimi contenuti di vario tipo libri pdf cose così leggibili utilizzabili per insomma apprendere cose quindi potete tranquillamente approfittarne ciao Luca ho comprato delle opzioni put ethereum scadenza 25 dicembre strike 720 non so cosa fare mi conviene venderle visto che al momento ho un profitto del 160% oppure attendo ancora qualche giorno ma guarda strike 720 adesso quant'è ethereum in dollari non lo guardo da una vita dunque 600 caspita hai già fatto un profitto così così importante complimentoni comunque 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 vedi tu perché anche lì mi stai chiedendo una cosa che tra l'altro che movimento incredibilmente pulita ha fatto ethereum questo me l'ero perso ha fatto un retest sul pool di liquidità che è flippato a domanda si vede che è un po' che non guardo questo grafico è diventato domanda e tac trampolino pazzesco pazzesco no scherzi a parte insomma vedi tu perché mi spiace dirti fai così fai cosa e anche dirti io farei così cosa perché sento che ti influenzerei attenzione che c'è la possibilità qua di fare un altro breakout quindi di salire ancora da qui al 25 dicembre insomma arrivare a 700 poi su ethereum che è ancora più volatile di bitcoin se ha una copertura insomma usala come copertura e quindi esercita la magari a scadenza altrimenti vedi tu quello quello che è il motivo che ti ha spinto ad acquistare l'opzione stessa è quello il fatto ma vero a proposito di carte ho usato già quella virtuale di binance per un totale di 200 cucuzze circa ma ancora non mi è arrivata la mail di conferma indirizzo normale dite e guarda ti dico a me ci ha messo e mi era arrivata ve l'ho detto un paio di settimane fa circa quindi adesso dovrebbe anche essere ora di arrivare per la carta però dipende perché io ero tra i primi secondo me quando è arrivata la possibilità io subito avevo fatto la spesa ma più che altro per fare il video per mostrarvela vi ricordate tempo fa quindi forse vanno in ordine temporale non saprei non saprei proprio ciao Luke una domanda complessa aiuto ho paura nella finanza tradizionale per ottenere un prestito devo dare garanzie verissimo nel mondo DeFi per ottenere un prestito devo avere un collaterale perfettamente vero per un piccolo investitore non è più complesso in quanto non potrei ottenerlo senza avere liquidità che opzione hai guarda purtroppo cioè purtroppo la DeFi come dici tu giustamente è così cioè serve un collaterale per prendere in prestito liquidità anche perché altrimenti rischierebbe di basarsi sul nulla cioè come fai a verificare un creditore e un debitore se non hai le loro credenziali cioè la DeFi per definizione non prende indirizzi non prende informazioni non prende identità e si deve basare però su qualcosa di tangibile a fine di poter garantire la solidità della piattaforma nel mondo delle cripto fortunatamente le cripto stesse sono nate per essere collaterali perché in particolare nel mondo Ethereum non fai per niente fatica a verificare la presenza del collaterale essendo comunque la blockchain trasparente quindi la risposta è che non c'è possibilità di avere un prestito come quelli nella finanza tradizionale cioè come quelli non collateralizzato cioè che tu prendi liquidità senza collaterale dai fai vedere le buste paga fai vedere che hai un contratto di lavoro stabile che hai una casa di proprietà qualcosa di pignorabile che poi vabbè quello è un collaterale di fatto però non esiste il prestito scoperto nel mondo della defai perché semplicemente non sarebbe sostenibile nel mondo della cefai secondo me neanche a meno che tu non sia un cliente accreditato come appunto un istituzionale un market maker che allora utilizzano Nexo Celsius e quei servizi lì per prendere prestiti magari non collateralizzati però si parla veramente di casi limite con investitori estremamente accreditati immagina si potesse fare con un token che rappresenta il titolo di proprietà della casa bravo esatto ma prima o poi ci arriveremo ci arriveremo perché stiamo tokenizzando qualsiasi cosa ormai e quindi insomma arriveremo anche a quello a integrare nel mondo defai sempre più asset reali io me lo auguro perché sarebbe veramente un bel traguardo già con Synthetix e piattaforme simili si sta andando un po' in quella direzione lì ed è veramente affascinante molto affascinante io tengo dietro bitcoin nel frattempo perché lo voglio voglio averci sempre un occhio non si sa mai che in questi ultimi due minuti della diretta dovessimo avere l'all time high mai dirlo allora hai richiesto anche la swipe card non ancora quella quella no una card alla volta adesso arriva la binance poi la swipe allora dove eravamo avevo visto una domanda mannaggia mannaggia tokenizziamo la scultura dietro di te no sapete quanto vale 10.000 bitcoin ve l'ho detto ci devo fare l'nft adesso allora no io avevo letto una domanda che ecco bnbbtc andiamola a vedere e link btc facciamo un paio di analisi su queste coin bnbbtc molto male perché in cioè a tutti gli effetti la struttura è ribassista abbiamo dei supporti persi e delle resistenze perse anche sul breve qui c'è stato un falso reclaim che poi è sprofondato di nuovo qua sotto e adesso insomma finché non c'è un'inversione chiara di strutture io voglio vedere questo per intero come minimo come costrutto di bottom perché questa punta di falso break non mi piace neanche un po' la voglio vedere tutta assorbita altrimenti per me è no in particolare adesso che siamo addirittura sotto a questa zona di minimo al contrario link btc ecco è meno peggio però anche lì non ci dà particolari spunti perché abbiamo dunque questo livello vale ancora vediamo se vale ancora non più di tanto forse visti gli ultimi swing io quasi lo cancellerei allora forse adesso che vale di più abbiamo quest'altro clasterino tac che funge da resistenza quindi poi sotto abbiamo invece questo pool di domanda che è ancora vivo e vegeto e funzionale siamo in una situazione di range detto in parole povere abbiamo un range che si muove tra questi due livelli e per ora non si sbilancia troppo la tendenza è quella di storno non di downtrend attenzione perché il macro comunque è bullish in quanto abbiamo avuto un uptrend durato secoli più o meno e abbiamo una tendenza appunto di storno che si sta appiattendo quindi potrebbe essere vicino al termine però serve qualche segnale di colpo di reni della domanda quindi un recupero di qua un recupero di quest'altro livello insomma più resistenze vengono riprese e più segnali di questo tipo avremmo a nostro favore questo è link BTC per adesso lateralità scenario di lateralità con i setup da range quindi andare a prendere magari gli estremi nel tocco del pool di liquidità in domanda seguire l'andamento ed eventualmente fare dei take profit lungo il percorso ma sul trend follower forse non è ancora il momento amici io vi ringrazio di avermi seguito anche oggi perché insomma come sempre è impegnativo me ne rendo conto seguire contenuti così lunghi magari per qualcuno sono noiosi perché chiacchiero troppo insomma a me piace un così a voi secondo me anche a me piace tenere unita la community quindi continuerò in questa direzione nel frattempo sto continuando a erogare anche contenuti per i più principianti i video su facebook sto parlando che a breve traslerò duplicherò clonerò anche su instagram quindi preparatevi a vedere una nuova nascita un nuovo social nascere vediamo un po' come gestirlo ma ne parleremo presto e domani parliamo dello staking di ether di ethereum 2.0 tutti i metodi con rischi e benefici noi ci rivediamo in live questo mercoledì oserei dire e quindi vi voglio sempre carichi sempre sul pezzo e vediamo se riusciamo a beccare qualcosa in diretta chi lo sa magari prima o poi ce la facciamo io non perdo mai le speranze vi auguro una buona serata e alla prossima